Bella, bella, bella amici, benvenuti in questo nuovo video di Carpi Vai, Felpa, tocca a te Eh, iscrivetevi, questo è un video particolare, credo Allora, Felpa, allora, inizio io con bella, bella, bella amici Ok E poi tu continui con benvenuti in questo nuovo video Speciale video E poi io continuo con i consigli Non riesco, non riesco Quindi aspetta, tu fai l'intro, inizio Faccio l'inizio, tipo fino a un video speciale Poi tu continui con iscrivetevi al canale e lasciate un bel giro E vabbè Inizio Bella, bella, bella amici Ok ragazzi, allora Oggi siamo qui su Coral e siamo qui con Svantaggio Ciao E andremo a fare un video particolare In pratica ci siamo messi un po' a giocare con gli NPC Ok, Sva, ti do a te l'onore di spiegare cosa siano gli NPC Ma stai ferma Vai, spiega cosa siano gli NPC Gli NPC sono dei personaggi di Minecraft finti Cioè non persone vere Che possono fare qualsiasi cosa Tipo muoversi, picchiare, seguire le persone Ok ma stai vero Il nome Mettergli l'armatura Possono essere animali Persone Mostri A buona capiria Iniziamo creandone uno Vieni qua però, non nascondiamo Crea me Ok allora creiamo ad esempio Svantaggio NPC create Voi ho tanti svantaggi Boom Svantaggio Se mettiamo NPC skin Gli assegniamo pure la skin Et voilà Adesso svantaggio e owner E Fialte tipo dice Che c***o sta succedendo qui Facciamo un esercito Boom Ecco abbiamo famous e owner svantaggio Quindi ho selezionato questo NPC E lo metterò a seguire Fialte Perché c'è la skin da donna adesso? Che c***o NPC Follow Player e Fialte Sai qua? Boom Guarda 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 È tornato, è tornato Oddio Aiuto Aiuto NPC tp here Ehi Ok bro Chi stai fermo? Oh ma che fu? Stava p*****o P*****o E' confuso Chi vuole un bodyguard? Guarda Io Ok ecco Matteo Scegli Questa Ok NPC Selle Perché sto venendo donne io Fatti un giro Perché mi segui? Ah non so se può fare il parkour sai? No non penso No non si può Non si può Non sono così intelligente Chi vuole? Vieni Ok Scegli Manco fosse lo santo scasto Ok questa Ok ok NPC Cell NPC Follow Meno P Car Come si chiama? Carbone circuito Carbone circuito Carbone circuito Ti bacio la tua Vantaggio Ti bacio la tua Vantaggio Allora adesso mi metto in vanish E metto Lion Però famous Perché sto to' famous NPC Create And D And D And L Famous And D Lion WGF Qua NPC Skin Skin Lion WGF Perfetto Lasciamolo qua E vediamo chi ha bocca Al tranello Carpi no Io sono qui Ok Regniamo le cose meno sospette No non è Carpi Lo posso Sta funzionando Carpi perché ti fingi Lion Ma non sono io Ma questa volta Non sono io con doppia account Guarda tutti che stanno arrivando Tutti che stanno arrivando Lion Sono un vero WGF Posso fare Screen Con te Per renderlo ancora meno sospettabile Ti metto in vanish Vanish Svantaggio E tu cammina piano Per lo spawn Ok Così si muove Intanto anch'io mi muovo NPC Follow Player Svantaggio Ti puoi Ti faccio Esatto 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 Quindi io sono qua Cammina diritto 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 Vai sempre diritto Vai sempre diritto Vai sempre diritto Oddio guarda tutti dietro Visto Non sono io Non è Carpi ragazzi Raga non è Carpi NPC Create Famous Spina VGF Boom NPC Skin Spina VGF Voila Se non ci cascono adesso Veramente non so cosa fare Sì anche spina Adesso voglio fare una roba Voglio mettere un pollo qua Praticamente chiunque lo prende Può volare intorno allo spawn Quindi NPC Quindi NPC Create Aereo NPC Type Chicken Ok NPC Control Oddio Praticamente Ne metto Quanti Ne metto tipo 4 Iniziamo a fare No no ma fa A te Meglio è meglio Ok facciamo così Questo è fattibile Vediamo Sì è fattibile Vediamo se ce lo fai Così è fattibile Ok tu non sai fare parkour Prove si è legato No no Facciamo così Saliamo così 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 Ok è fattibile Perfetto Adesso mettiamo una piccola piattaforma qua Che fa adesso? Diamo inizio alla festa Vabbè meglio 3 Meglio 3 Andate Fate il parkour E prendete Il vostro pollo E si colpiscono Ok va 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 No Ok vai vai Ma che c***o È fattibile sta roba Ma è fattibile Vengono Oh no si picchiano però Stanno lavorando insieme Oh ci sono 3 già qua Oh ne ho caduto Ok Dai dai C'è la fretta All around me are familiar faces Adesso rendiamo le cose più interessanti L'ultimo Che sopravvive Riceve un player Mob A scelta TP Ragazzo annoiato Carpi Ok viene anche tu TP Zontaggio Carpi Cosa desideri Un pulcino Ok come un pulcino NPC NPC Type Perché Te scrivo pulcino E' la skin di spiderman NPC Type Ehm Chi si chiama la gallina piccola Buono Fatto Oh non Lo vrei Oh Dio Oh Dio Oh Dio Oh Dio Questa E' questa E' tornato a quello col fall L'avevo perso Oddio guarda Così, così, così Sto correndo per la sua vita No, no, scopo Corri My name is Ciro Esposito But everybody calls me Ciruzzo Momma lavo me vesti e shing Momma lavo me vesti e vado me con uova MPC type Oddio Oddio Tosto Oddio Mermo Ok Costume Oddio Oddio Benissimo La scena Spider pork Spider pork Il soffitto Tu mi spork Let's go ragazzi Andiamo 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 Ce la farò? Si ce la faccio No Ti piace? Nova Bugatti Oddio Oddio Lambo Fluttuante a sto punto Ok ragazzi Allora se il video vi è piaciuto Lasciate un bellissimo like Ed iscrivetevi Se ancora non lo avete fatto Se volete vedere anche voi in MPC Lasciate un bel like E commentate E niente Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao